Un jet da combattimento russo Su-27 ha colpito un drone Reaper americano sopra il Mar Nero, un'area strettamente monitorata dalla NATO dall'inizio della guerra in Ucraina, ha annunciato l'esercito americano. Il nostro drone MQ-9 stava eseguendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando lo schianto e la perdita del drone, ha dichiarato il generale James Hecker, comandante delle forze armate statunitensi in Europa ed Africa.